Buongiorno a tutti, eccoci dunque a un nuovo appuntamento dedicato alla storia e all'arte di Sassuolo. Oggi vi voglio parlare delle targhe che possiamo ancora vedere lungo alcune strade più antiche della nostra città e che si riferiscono alla straordinaria riforma del catastro urbano promossa dal duca Ercole III d'Este nel 1786. Quelli che infatti a prima vista possono sembrare dei particolari numeri civici, contrassegnati in alto da una lettera e in basso da una cifra araba e quindi da un particolare carattere alfanumerico, non sono in realtà numeri civici così come noi li intendiamo oggi, ma bensì identificavano gli edifici e rimandavano poi ad un vero e proprio elenco di proprietari con descrizione delle stanze che componevano appunto quelle case al fine di potere perseguire una tassazione che fosse in qualche modo il più efficiente e soprattutto il più eco possibile. Il duca infatti Ercole III proseguendo l'ambizioso illuminato programma già avviato dal padre, il duca Francesco III che si era dedicato con la costruzione di numerosi edifici pubblici come l'ospedale civile, come l'albergo dei poveri a Modena e di quello che era il problema appunto del sociale, ecco che Ercole III dicevamo prosegue con questa sua intenzione nel tentativo di venire a sostituire quello che erano gli enti ecclesiastici destinati appunto ad occuparsi dei poveri attraverso uno stato che con una più equa ripartizione delle tasse potesse in qualche modo ecco sopperire a una redistribuzione del reddito e quindi provvedere anche ai più poveri della città. Nel 1786 dunque in tutte le principali città del Ducato si provvide all'istituzione di questo nuovo catastro urbano. Ogni città era ripartita in quartieri o contrade. Modena ad esempio era divisa in 20 quartieri ciascuno contrassegnato da una lettera. Sassuolo invece era divisa in 5 contrade. A ciascun edificio di ogni quartiere veniva poi dato un determinato numero che trovava corrispondenza in un elenco appunto del catastro. Elenco nel quale vi era il riferimento a quel dato edificio con indicata la proprietà, una sommaria descrizione e soprattutto il numero dei vani in modo da permettere appunto una più equa tassazione del proprietario. Il primo quartiere da cui partiva la numerazione con la lettera A era a Sassuolo come a Modena il quartiere Ducale e quindi la zona Rocca. La numerazione si avviava proprio dal palazzo Ducale che era contrassegnato dalla lettera A1. Il quartiere B era invece composto dalla contrada Canuove, quindi l'attuale via Menotti, e dalla contrada per Fiorano, l'attuale via Mazzini. Il quartiere segnato con la lettera C invece era composto dalla piazza dell'orlogio, l'attuale piazza Garibaldi, dalla contrada di Santo Spirito, l'attuale via Fenuzzi, e da via Cleglia. Il quartiere invece contrassegnato dalla lettera D era composto dalla contrada Ghiarona, ora via Caula, e dalla contrada Lei, ora via Lea. Il quartiere E, l'ultimo, era invece costituito dagli edifici che si trovavano lungo la contrada Borgo, ora via Felice Cavallotti. Affinché il catastro fosse dunque perfettamente ordinato, era necessario che al registro conservato in archivio, con le indicazioni appunto e la descrizione degli edifici, corrispondesse un elemento di identificazione semplice e chiaro direttamente posto sull'edificio in questione. Dunque a ciascun proprietario fu inviato un foglio nel quale era indicata la lettera e il numero che avrebbe dovuto apporre a proprie spese sul fronte dell'edificio, dando delle indicazioni precise anche riguardo a quelle che dovevano essere le dimensioni e i materiali. La targa infatti poteva essere in terracotta, più o meno ornata, in marmo o in altro materiale durevole, ma era necessario appunto che fosse ben esposta, ben in vista e che, meglio ancora, potesse contrassegnare con un colore diverso quello che era anche l'incisione riportata appunto nella targa stessa alfa numerica. Purtroppo non sono molte le targhe della numerazione estense rimaste lungo le vie della nostra città, anche perché nell'immediato periodo post-unitario fu necessaria una riconfigurazione della numerazione civica stradale. Molte però sono rimaste anche perché nei primi anni il Catasto, comunque anche quello unitario, continuava a fare riferimento a quelle che erano le indicazioni più antiche del Catasto estense. Anche oggi dunque abbiamo aggiunto un altro piccolo tassello con un nuovo particolare, magari sconosciuto ai più, per meglio conoscere la nostra città. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Grazie, ciao! Grazie a tutti!